La lista civica per Merano consolida la propria struttura organizzandosi in un vero e proprio partito dopo la fuoriuscita dalla PD della componente che faceva capo all'ex vice sindaco Diego Cavagna. Tra gli obiettivi primari le possibili future alleanze per uscire dai ristretti ambiti comunali mantenendo però la forte caratteristica di partito territoriale. L'attuale vice sindaco Giorgio Balzarini è soddisfatto di come la sua creatura sta crescendo. Sì, diciamo che sta crescendo perché ha compiuto un anno da quando ci siamo promossi per partire con questa civica per Merano. È una data importante, è un momento importante che abbiamo festeggiato ieri con tutto il gruppo promotore. Abbiamo approvato lo statuto, abbiamo approvato le nomine che danno vita a questo partito quindi siamo pronti per proseguire in questa avventura. Coordinatore della lista civica è stato eletto Andrea Casolari, attuale assessore allo sport ed ecologia del comune meranese. La lista civica per Merano è di fatto diventata un vero e proprio partito si chiama comunque ancora la civica per Merano ma questo per ribadire il nostro progetto di un partito fortemente legato al territorio sganciato dalle logiche nazionali dei partiti nazionali che ritengono non ci rappresentino per rilanciare ancora una volta la nostra idea di un soggetto politico legato al territorio e alla comunità con idee e progetti sulla nostra comunità. Altre cariche uscite dall'assemblea costituente del partito quella di tesoriere a Patrick Paladino e di organizzatore a Walter Taranto mentre il comitato dei garanti è composto da Irma Ferrazzin, Manfredo Torneri e Gianni Marese.